Angelo Antonio Angarano non rappresenta più il Partito Democratico in Consiglio Comunale a Biceglie. L'esponente della minoranza candidato sindaco alle ultime amministrative con una coalizione di centrosinistra lo ha annunciato nei giorni scorsi con una nota, nella quale comunica la difficile decisione in seguito alla mancanza delle condizioni ideali per svolgere in maniera seria e costruttiva il ruolo affidato di dal partito e dagli elettori. Con l'ingresso dell'intera maggioranza nel PD e dopo il recente congresso, spiega Angarano, è venuta meno quella distinzione nel rappresentare una sana opposizione in Consiglio Comunale. Ho deciso di rispettare il mandato ricevuto dagli elettori nel 2013. Io nel 2013 ero il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra con un programma ben definito. Gli elettori hanno votato per mandarci all'opposizione. E il mio diritto, il mio dovere, il mio obbligo morale verso gli elettori è quello di fare opposizione fino alla fine del mandato. Se la maggioranza è entrata nel mio partito attraverso un tesseramento e senza una condivisione vera di programmi e di valori, io non posso permettere che ci sia un PD all'opposizione e un PD in maggioranza perché diventa qualcosa che gli elettori non potrebbero assolutamente capire e penso che la credibilità in politica sia la virtù principale. Le prossime amministrative però sono vicine. Infatti nel maggio del 2018 a Biceglie si torna a votare. La città di Biceglie è rimasta arretrata su parecchie situazioni. Parlo essenzialmente di sviluppo economico, dello sviluppo commerciale, dello sviluppo turistico. Noi siamo rimasti all'età della pietra, c'è bisogno di coniugare lo sviluppo con nuove occasioni di occupazione, c'è bisogno di tenere bada e far fronte a una situazione sociale che è in continua evoluzione ed è una pentola a pressione che potrebbe scoppiare da un momento all'altro.